Il maltempo si abbatte anche sulla vendemmia in corso, nonostante le previsioni delle scorse settimane e di un aumento della produzione del 4% che lasciavano immaginare un'ottima annata per il vino in campagna, le piogge delle scorse ore preoccupano molto i viticoltori. Siamo nel pieno, però abbiamo avuto una battuta di arresto a causa delle condizioni meteo, per cui questa settimana penso che se ne raccoglierà ben poca di uva. Riconosceremo la settimana prossima, speriamo che non ci saranno piogge esagerate come da previsioni, perché altrimenti sarà messa in dubbio anche la qualità delle uve, soprattutto l'aglianico, perché ricordiamo che è un vitigno che è un po' delicatuccio a livello di resistenza all'acqua, per cui mi auguro di cuore che veramente non ci avranno danni, altrimenti metteremo ulteriori tasselli negativi a questa vendemmia che era partita con tutte le migliori aspettative, però un po' per la discesa dei prezzi che ci è stata nella fase iniziale, un po' per queste piogge che sono sopravvenute, siamo in delle condizioni che non sono certamente quelle ottimali. Ma il presidente del consorzio di tutela vini conferma è una delle migliori vendemmie, ma le piogge del fine settimana rischiano di danneggiare i vitigni. Ma soprattutto per le uve rosse che, ricordiamo, non sono così resistenti come la falanghina e come qualche altro vitigno bianco, è purtroppo elemento negativo, perché veramente sarebbe stata una grandissima vendemmia. Preoccupazioni dunque che vanno ad aggiungersi ad una situazione che Rillo definisce ormai insostenibile a causa dei rincari. Proprio oggi sentivo parlare di ulteriori rincari ad ottobre e non va affatto bene, perché già i costi di oggi sono insostenibili, non tanto per i costi diretti di energia, ma quanto per l'aumento di tutte le materie prime che c'è stato. Quindi veramente una situazione insostenibile.